Sul Mediterraneo centrale è presente un campo di pressione livellata su valori medio-bassi, mentre in quota affluisce aria relativamente più fresca, che determina condizioni instabili nelle prossime ore e anche nella prima parte di domenica. In Toscana, sabato 1 agosto, poco nuvoloso per nubi in prevalenza alte stratificate, tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalla costa già dalla tarda mattinata, con peggioramento associato a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o localmente temporalesche. Venti deboli in prevalenza da sud, mari poco mossi, localmente mossi a largo, temperature minime in calo e massime in aumento nell'interno, pressoché stazionarie sulla costa. Sul territorio provinciale da nuvoloso a molto nuvoloso in serata, con locali precipitazioni anche temporalesche, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 19, massima 32 gradi, in Versilia e sul litorale minima 21, massima 28, in Garfagnane e zone montane minima 16, massima 30 gradi. Da domenica sensibile miglioramento, preludio ad una nuova ondata di caldo intenso dalla prossima settimana.